Ciao ragazzi, appena uscito il primo trailer di Avatar La Via dell'Acqua, film che arriverà questo dicembre, non vedo assolutamente l'ora, è uno dei film che attendo di più, in realtà forse è il film che attendo di più del 2022, da adesso, naturalmente. Vi informo anche in questo video che stavo editando la recensione di Enola Holmes 2 in anteprima, che arriverà, penso, anche oggi, se riuscirò a finire di editare il video, prima mi concentrerò su questa reaction. Magari, come sempre, prima del trailer, che non vedo assolutamente l'ora di vedere, vi invito, come sempre, a seguirmi su tutti gli altri social, i link li trovate nella descrizione, come sempre, il link anche di Pampling, codice ilpensiero4, per supportare il canale e avere un paio di calze gratis. Ci sono tantissimi prodotti, tra t-shirt, tazze, poster, calze, chi ne ha più ne metta, c'è davvero tanta roba, e se, appunto, inserirete il codice ilpensiero4, avrete la possibilità di scegliere un paio di calze, metterle nel carrello e le calze vi costeranno 0€. Supporterete anche il canale, per questo, naturalmente, vi ringrazio. Se, invece, volete supportarmi gratis, basta un like, una condivisione, qualche commento, e magari, anche, se vi trovate qui per la primissima volta, iscrivetevi. Ma adesso passiamo al trailer. Dai, non vedo l'ora di vederlo in 3D, soprattutto. Che figo. Ehi. Ehi. Dad, I know you think I'm crazy. I have to line those big rocks. But I feel her. I hear her heartbeat. Questa scena l'ho vista al cinema. Ma cosa suona il suo heartbeat? Molto. Non vedo l'ora, davvero, mamma mia. Le nuove tribù. Magari ci sarà una dinamica alla Romeo e Giulietta, probabilmente. All things. Before your birth. And after your death. This is our home! I need you. With me. And I need you to be strong. Mamma mia. Strong heart. Ok. Raga, brividi. Ok. Mi è piaciuto tantissimo. Soprattutto per quello che si vede, naturalmente. La storia non è che si capisca tantissimo. Appunto, ripeto, probabilmente ci sarà una dinamica alla Romeo e Giulietta che non si discosta nemmeno così tanto dal primo film. Però magari qui, appunto, sono tutti i navi e più simile come roba. Fatto sta che ho visto qualche scena, me l'immagino già in 3D e quando arriva l'uscita di questo film. Davvero, non vedo l'ora di vederlo. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto se questo trailer vi è piaciuto. A me tantissimo. Io non vedo l'ora di vedere il film. Ripeto, Avatar The Way of the Water o La Via dell'Acqua è il film che attendo di più da ora fino alla fine dell'anno. Non vedo l'ora di rimanere in apnea in sala durante le scene in acqua e probabilmente sarà il 90% del film, quindi ottimo. Ragazzi, io voglio che sia il 16 di dicembre, non so quando in Italia arriverà, probabilmente uno o due giorni prima anche in questo caso. E niente, ancora una volta vi invito a lasciare un like se ancora non l'avete fatto, iscrivervi se non siete iscritti, attivare la campanella per non perdere i prossimi video che usciranno. In descrizione trovate tutti i link dei miei social e il link di Pampling, codice ilpensiero4 per supportare il mio canale e avere un paio di calze gratis. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!